Durante i giorni scorsi la giunta di Biella ha approvato il rinnovo del protocollo d'intesa con la diocesi. L'obiettivo è quello di riconoscere agli oratori la loro tradizione educativa nei confronti dei giovani, grazie ad un costante impegno nella promozione di tante attività. Ed è stato così siglato il protocollo d'intesa tra il sindaco di Biella Claudio Corradino e Don Gabriele Leone, presente anche l'assessore alle politiche giovanili Gabriele Bessone. Il protocollo prevede l'erogazione di un contributo di 30.000 euro. I fondi sono valevoli come sostegno per le tante attività extrascolastiche realizzate nel periodo da settembre a giugno e quelle ludico-ricreative, ovvero i centri estivi, realizzati durante l'estate. L'amministrazione intende proseguire la collaborazione con le parrocchie della città in virtù dei risultati estremamente positivi raggiunti negli scorsi anni e della funzione educativa e formativa svolta dagli oratori. Come sottolinea l'assessore all'istruzione alle politiche giovanili del Comune di Biella, Gabriele Bessone, l'oratorio è una istituzione fondamentale per tutte le famiglie e nonostante la pandemia abbia fatto ridurre in parte alcune attività, riconosciamo l'importanza del lavoro degli stessi. Dunque, per questo, l'amministrazione comunale rinnova il protocollo d'intesa con le parrocchie ed è già anche fissato l'incontro con il tavolo di lavoro per il 10 gennaio del prossimo anno al fine di condividere le progettualità del 2022.